Vengo a mangiare una pizza a casa tua, porto un amico. Così i pusher, sgominati con l'operazione Pixus, condotta dai carabinieri della compagnia di Sapri, con il coordinamento della procura di Lago Negro, si organizzavano per le cessioni. E' quanto emerge da una delle tante intercettazioni telefoniche che hanno permesso ai militari di ricostruire i movimenti di questi insospettabili giovani che puntavano ad un guadagno facile. La droga veniva chiamata a volte pizza per non destare sospetti e quella frase, detta al telefono, era il segnale che dava il via allo spaccio per indicare che bisognava preparare una dose da vendere. E' stata l'attività tecnica, posta in essere dai carabinieri, a seguito di singoli episodi e arresti compiuti sin dal febbraio 2015, a far emergere il giro che da Napoli portava la droga nel Cilento e la rivendeva. Protagonista principale, Maria Marino, originaria di Casella in Pittari e residente a Policastro Bussentino, una pusher in gonnella decise e determinata nel perseguimento dei propri obiettivi criminali, così la descrivono gli inquirenti. Assieme al convivente Giovanni Brandi e a Fabio De Luca, era quella che più di tutti si recava a Napoli per acquistare tramite il partenopeo Antonio Pandolfi e poi rivendere nel golfo di Policastro la scisce ma anche l'eroina e la cocaina, un'attività che rendeva anche 500 euro al giorno. Lei ancora viene ritenuta quella che ha organizzato, vincendo le resistenze del convivente, la rapina ai danni di De Luca per sottrargli 900 euro di proventi dello spaccio e riutilizzarli per l'acquisto di stupefacenti. I quattro sono stati destinatari dei provvedimenti più pesanti e ora sono ai domiciliari. Per le altre quattro persone, oggetto di misure a cautelare nell'ambito dell'operazione, è stato disposto solo il divieto di allontanamento perché solo marginalmente sono coinvolte. Saltoariamente avevano fatto qualche cessione, magari di dosi, acquistate per sé, ma frequentavano comunque il trio marino Brandi e De Luca. L'operazione Pixus arriva a dare uno scacco al mercato della droga nel Golfo di Policastro dopo l'inchiesta Frecciabianca, molto simile e ugualmente esemplificativa della diffusione delle droghe sul territorio. È un'indagine questa speculare, analoga a quella che è stata compiuta poco più di un anno fa, un anno e mezzo fa, che aveva visto l'emissione di numerose, una quintina di ordinanze di misura cautelare in quella circostanza. Cambiano i soggetti, ma le modalità di spaccio rimangono assolutamente analoghe, le modalità di approvvigionamento ugualmente identiche, anche in questo caso come nel caso precedente lo stupefacente veniva acquistato, veniva preso nella zona del Napoletano. Le modalità uguali, la fascia di età degli utenti è comunque molto bassa, ci sono anche dei minorenni, il che fa riflettere poi sulla diffusione del fenomeno in questo territorio, che impone da parte della Procura della Repubblica e degli organi di polizia giudiziaria un'attenzione particolarmente alta.